Buon esordio di Giulia Gabrieleschia, mondiale di nuoto in corso di svolgimento in Ungheria. La giovane pistoiese, 21 anni, studentessa, ha nuotato da protagonista nella 5 km in acque libere, specialità abbracciata nell'ultimo periodo della sua carriera senza peraltro disdegnare le lunghe distanze in vasca. Giulia, che è arrivata a tuffarsi nelle acque del lago Balaton con i gradi di campionessa italiana in carica sia nella 5 che nella 10 km, è stata grappata al podio fino a 350 metri dal termine, poi ha pagato un po' di inesperienza e forse anche un po' di stanchezza, tagliando la linea del traguardo in una più che onorevole sesta posizione. Un risultato eccellente se si pensa che era l'esordio in una manifestazione ridata di questo livello. Giulia Gabrieleschi, che è tesserata sia per la nuotatore pistoiesi che per le fiamme oro, tornerà in acqua a rappresentare gli azzurri e, perché no, anche Pistoia giovedì mattina nella staffetta mista 4x1250 metri. insieme a Martina Carmagnoli, all'oro mondiale di Cazzanne, la 25 km Simone Ruffini e a Federico Vannelli.